buongiorno ragazzi benvenuti oggi vi mostrerò un po di attrezzatura che mi è arrivata tra cui ci saranno alcuni prodotti riguardo il mio upgrade alla mia attrezzatura video e audio in particolare e altra attrezzatura per quanto riguarda la macro fotografia visto che mi avete fatto alcune richieste in particolare su alcuni accessori che potrebbero tornare utili ma a basso costo quindi se vi va venite con me oggi andiamo a fare un video unboxing eccomi qui pronto per il video unboxing come vi dicevo attrezzatura per la go pro e lato audio e da questa parte ho dell'attrezzatura mista che scoprirete dopo che potrebbe essere interessante per molti di voi per la macro fotografia iniziamo subito con l'attrezzatura per la go pro questo è un acquisto che ho fatto molti di voi lo sanno cosa possa essere perché se mi seguite su instagram ho fatto anche una storia e vi ho parlato di questo accessorio cercavo qualche consiglio da molti di voi ma mi sono reso conto che non conoscete bene la go pro e quindi oggi vi spiegherò perché ho fatto questo acquisto questo è il media mod per la mia go pro 8 che cos'è il media mod è praticamente un accessorio che permette alla go pro di poter installare un microfono esterno e anche una porta micro hdmi per montare anche un display esterno dovete sapere che la go pro ha solo una porta usb c e questa porta usb c non può essere sfruttati in alcun modo per installare un microfono esterno anche con adattatori che sono in vendita online questa porta usb c non si può utilizzare per montare un sistema di microfono esterno perché la go pro ha fatto sicuramente un blocco hardware e quindi per poterci montare un microfono esterno bisogna acquistare per forza un accessorio originale go pro le scelte sono due il classico adattatore per go pro che costa circa 70 euro e questo che è una novità diciamo uscita con la go pro 8 che è stato rifatto anche per la go pro 9 che il media mod qui abbiamo una porta usb c che può essere utile per ricaricarla anche durante la registrazione una porta micro hdmi per poter installare magari un monitor esterno e quindi fare i blog e finalmente un jack per l'audio quindi poter attaccare un microfono esterno inoltre è fornita con un microfono direzionale che migliora sicuramente l'audio io probabilmente la sfrutterò più che altro per montarci un microfono esterno e poi magari capirete il perché però potrebbe tornare utile anche questo microfono extra che nelle situazioni dove portare anche un altro microfono un po più complicato sicuramente migliorerà l'audio il sistema qui è tutto in plastica ha delle slitte qui dove è possibile inserire magari il display della go pro che ora magari vi faccio vedere e magari una piccola luce per illuminare il primo piano e niente a fine video farò qualche prova giusto per vedere cosa come si comporta confezione enorme ma all'interno troviamo soltanto i media mod un attacco standard per go pro e la sua vita poi nient'altro quindi tutto qui non vedo l'ora di provarlo purtroppo se siete a conoscenza delle ultime novità da domani la sicilia sarà zona rossa quindi effettivamente non so quando andrò a provarlo per i prossimi video speriamo che sia presto andiamo avanti e scopriamo un altro prodotto che credo sia molto interessante spero però che funzioni effettivamente come promesso per migliorare il discorso audio cercavo un prodotto che mi permettesse di registrare anche a distanza l'audio in modo perfetto e esistono varie alternative di varie aziende a costi veramente esorbitanti io sono riuscito a beccare questa azienda che fa un prodotto che è molto economico le sue dimensioni non sono molto compatte però potrebbe essere una buona alternativa per chi vuole fare video con un audio con un sistema wireless quindi senza fili e spendere veramente poco parliamo di un prodotto di circa 40 euro l'azienda è questa il sistema è questo qui abbiamo una cuffia col microfono che sicuramente non andrò a utilizzare questo è il sistema come viene composto questo dovrebbe essere la trasmittente a cui noi possiamo collegare qui un microfono lavalier che va attaccato qui al trasmettitore il sistema è proprietario quindi se si rompe qualcosa saremo costretti a riacquistare il prodotto originale però penso che ne valga la pena visto che tutto costa circa 40 euro come vi dicevo allora questo è la trasmittente col mio microfono lavalier e questo è il sistema per ricevere il segnale da attaccare alla in questo caso io la utilizzerò con la media mode e quindi poter trasmettere così il segnale alla gopro non vedo l'ora di provarlo per vedere se effettivamente c'è un guadagno di audio e se in condizioni magari di vento forte questo accessorio sarà effettivamente d'aiuto continuiamo ad aprire i pacchi perché non voglio dilungarmi troppo e vediamo cosa c'è nell'ultimo questo pacco arriva da un'azienda che probabilmente molti di voi conoscono è l'ulanzi ulanzi è un'azienda che fa molti accessori anche per action camera e io ho chiesto di provare in particolare alcuni loro prodotti vediamo se me li hanno mandati tutti iniziamo da questa tra gli accessori che io utilizzo spesso ci sono di solito treppiedi piccoli treppiedi cercavo e le caratteristiche di questa testa penso non mi deluderanno una mini testa che abbia però caratteristiche abbastanza professionali perché deve tenere un po di peso questa è una mini testa dell'ulanzi con una mini come vedete piastra anche questa seppur mini ha l'attacco arca swiss standard e che ha una discreta portata ora di preciso non mi ricordo quando è la portata massima però sicuramente riuscirà a portare un po di attrezzatura ma non solo interessante per le sue dimensioni compatte quindi potrebbe essere utile per un piccolo treppiedi che magari regge il soggetto che dobbiamo andare a fotografare ma anche qui un attacco tipo hot shoe per inserire magari un flash o un faretto e quindi abbiamo un top attacco dove mettere magari la telecamera e qui inserire un piccolo faretto led per illuminare il soggetto è molto interessante questo prodotto e non vedo l'ora di provarle a vedere effettivamente la sua la sua capacità di carico con queste dimensioni così compatte all'interno ci sono anche due chiavetta brucola andiamo oltre questo è un piccolo treppiedi che potrei sfruttare con quella testa come vi dicevo o potrei sfruttarla anche direttamente per qualche farettino di treppiedi di questi ne ho provati a migliaia questo mi sembrava costruito abbastanza bene e mi piaceva il discorso che le gambe fossero leggermente allungabili e quindi migliorare la tenuta quando magari il terreno non è proprio dritto e quindi migliorare in questo modo la stabilità qui ci sono dei pulsanti che bloccano lo scorrimento quindi non c'è il rischio che si rientrino da soli mentre lo utilizziamo quindi questo è un altro prodottino di tutti questi prodotti che vi sto facendo vedere poi magari vi lascerò il link in descrizione andiamo avanti con questo pacchettino vediamo cosa c'è al suo interno qui dentro c'è un altro accessorio che potrebbe tornare utile per la macro è un piccolo braccetto io questi li utilizzo tantissimo sicuramente in primavera farò un video dove vi parlerò di tutti questi piccoli accessori utili per la macro perché ci sono alcuni che risolvono veramente tanti problemi questo è un braccetto flessibile come vedete è possibile ruotearle in qualsiasi posizione andiamo a stringere qui e lui poi si blocca quindi potrebbe tornare utile per tenere che ne so un plump un morsetto su agganciato a un treppiedi ci potrete fare un po di tutto mi ripeto di nuovo sicuramente poi farò un video vi spiegherò tutti questi accessori come utilizzarli e dove acquistarli ecco qui questo è uno dei prodotti su cui confido di più uno dei problemi della gopro 8 è che non ha il display anteriore quindi non mi riesco a vedere quando inizio magari a fare un video come questo quindi devo ricorrere magari al cellulare per vedere il display per inquadrare la scena in questo momento infatti sto utilizzando questo treppiedi pigitac con l'applicazione della gopro e riesco a vedere cosa sto registrando quindi mi rendo conto se l'inquadratura effettivamente è corretto oppure no per ovviare a questo problema specialmente quando mi muovo non è che possa tenere un altro treppiedi per guardarmi ho visto che l'ulanzi ha fatto una soluzione molto economica qui praticamente c'è un piccolo accessorio dove noi andremo installare la gopro qui davanti e qui dietro ora coperto magari da una pellicolina che vado a togliere c'è un piccolo specchio quindi io potrò vedere di riflesso il display della gopro e così vedere cosa sto inquadrando che è una prova voglio vedere se funziona e se questo acquisto ne valga la pena e oltretutto ha degli attacchi qui laterali hot shoot dove possiamo andare a inserire altri accessori sempre con l'attacco della slitta del flash quindi faretti microfoni potrebbe tornare comunque utile vediamo se funziona e se effettivamente mi aiuterà per i blog ma che vada l'opzione che resta è acquistare il display lcd ribaltabile per il media mod e così fare i blog in maniera più corretta tutto qui qui c'è una pochette per conservare questo accessorio e niente magari lo monto a fine video e vediamo come va andiamo avanti ecco qui un altro accessorio che potrebbe tornare utile non solo per chi utilizza la gopro come me ma per chiunque utilizzi una macchina fotografica che è possibile caricare anche quando viene utilizzato questo qui è un interessante piccolo poll possiamo montare la macchina fotografica qui sopra e tenerla in mano ma la cosa più interessante è che è un piccolo power bank quindi noi possiamo inserire la nostra porta usb e tenere in carica lo strumento che stiamo utilizzando per vloggare per registrare quindi può essere una piccola videocamera ma in questo caso io lo utilizzerò con la gopro e non dovrò ogni volta andare a caricare e cambiare magari le batterie mentre sono in giro con un power bank di questo qui 6800 micro ampere quindi bello grosso riuscirò a passare tranquillamente una giornata senza dover ricaricare la gopro è abbastanza pesante l'unica cosa che sto notando è che non ha un grip molto buono perché tutto in metallo ma è molto liscia magari potevano fare un grip gommatino per tenerlo meglio qui sotto c'è una vite da un quarto di pollice quindi potremmo metterci che ne so magari il piccolo treppiedi per poterlo appoggiare molto interessante questo lo utilizzerò tantissimo e andiamo a vedere l'ultimo accessorio che io sono molto interessato a provare perché me l'avete chiesto voi prima di farvelo vedere per bene una piccola introduzione nei miei video vedete spesso questi piccoli faretti questo è quello della litra che utilizzo ormai da tanti anni super affidabile considerate che questo faretto lo utilizzo da più di tre anni è ancora perfetto funziona benissimo e questo è quello joby il beamo che praticamente è una new entry da pochi mesi e mi sta veramente soddisfacendo sono molto piccoli fanno un'ottima luce sono resistenti all'acqua la polvere sono fatti veramente bene sono tutti in metallo e resistono anche alle cadute veramente degli oggettini interessanti per chi fa macro sono molto piccoli e compatti piccolo diciamo difetto chiamiamolo difetto e il costo comunque si aggira intorno ai 90 euro se non mi sbaglio il joby e il litra siamo intorno a un centinaio di euro poi magari vi farò una recensione di questi faretti ve ne parlerò fare un confronto e visto che costano molti molti di voi mi hanno chiesto ma esiste qualche alternativa economica l'unica alternativa economica che sono riuscito a trovare è questa questo è il faretto dell'ulanzi un faretto che va a imitare moltissimo il litra come dimensione diciamo siamo lì come peso direi che è quasi la metà quindi molto molto più leggero il prodotto si chiama ulanzi l1 pro anche questo sulla carta risulta waterproof anche questo mi sembra costruito abbastanza bene sembrerebbe in metallo se qui viene scritto addirittura che ip67 quindi siamo sicuri che resiste all'acqua e qui c'è il pulsante di accensione come quello ha degli step non vedo nessun diffusore cosa che utilizzo moltissimo sull'itra ma anche sul joby questa cosa diciamo non è molto positiva qui abbiamo un attacco per poterlo montare magari su una slitta a caldo come abbiamo visto prima magari su una macchina fotografica su un treppiedi su un qualunque accessorio qui abbiamo la porta per la ricarica come vedete stagna la sua guarnizione e la ricarichiamo con un cavetto usb c altra cosa che mi è piaciuta molto quando sono andato a trovare questo prodotto è il fatto che possiamo montare con questa cornicetta dei piccoli filtri colorati cosa che sul joby non esistono mentre sul litra esistono però bisogna acquistarle a parte costano circa una quarantina di euro quindi comunque dobbiamo affrontare oltre il costo del faretto anche il costo per le cornicette con questi filtri colorati che mi pare siano un po' meno qui c'è un filtro bianco che dovrebbe fungere un po' da diffusore anche se questo tipo di diffusore così bombato fa qualitativamente una luce migliore e quindi abbiamo anche compreso nel prezzo questo sistema di filtri il costo non mi ricordo dovrebbe essere intorno ai 30 forse 40 euro magari poi vi lascio il link in descrizione così ve lo potete andare a guardare se vi interessa ovviamente potete acquistarlo io prima di consigliarvelo vorrei provarlo per un po' e poi magari farvi che ne so un video dove li paragono tutti e tre vi dico pro e contro di ognuno di loro quindi aspettatevi magari più avanti un video il tempo che lo testi per un po' di tempo e niente il video unboxing finisce qui spero che l'abbiate trovato interessante come sempre un bel like per supportare il canale aspettate solo un attimo che adesso monto il tutto e vediamo se l'audio effettivamente con questi accessori migliore e mi sentite meglio bene ragazzi ho appena collegato qui sulla gopro non solo il media mod e il display dell'ulanzi ma adesso ho montato il sistema di trasmissione audio che con il microfono lavaglier mi permetterà di registrare un audio che in teoria dovrebbe essere migliore perché ce l'ho sempre vicino a me e qui ho il mio trasmettitore che ovviamente mi aiuterà a trasmettere anche a distanza l'audio sulla gopro quindi adesso mi allontano e vediamo in effetti se l'audio si mantiene costante direi di spostarmi fino a qui mi trovo a circa 8 metri dalla gopro e spero che mi sentiate bene che l'audio sia sufficiente per ascoltarmi in maniera abbastanza limpida la qualità non so qual è voi la state ascoltando in questo momento ditemi cosa ne pensate magari sotto nei commenti se ho fatto bene a fare questo acquisto e se in effetti l'audio sia buono per i video qui sul canale detto questo io vi saluto vi rinuovo il mio invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto noi ci becchiamo sempre sui social e spero presto anche qui sul canale e portarvi un nuovo video visto che domani andremo in lockdown per circa 15 giorni non so se riuscirò a fare video se avrò possibilità magari di fare qualche video in interno portare qualche contenuto interessante e comunque ci vedremo su instagram e facebook con le mie foto di natura alla prossima ragazzi ciao ciao